Sul numero di maggio della prestigiosa rivista scientifica Bone è stato pubblicato Tra le autrici e gli autori dell'articolo, in compagnia di Lia Rimondini e Andrea Cocchis, professoressa ordinaria e professore associato di scienze tecniche mediche applicate presso l'Università del Piemonte Orientale. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Beba Steck House, a Ornavasso